discorso sulla servitù volontaria no non è un bene il comando di molti uno sia il capo uno il re così ulisse secondo il racconto di omero si rivolse all'assemblea dei greci se si fosse fermato alla frase non è un bene il comando di molti non avrebbe potuto dire cosa migliore ma mentre a voler essere ancora più ragionevoli bisognava aggiungere che il dominio di molti non può essere più conveniente dato che il potere di uno solo appena questi assume il titolo di signore è terribile contro ragione al contrario il nostro eroe conclude dicendo uno sia il capo uno il re e tuttavia dobbiamo perdonare a ulisse di aver tenuto un simile discorso che in quel momento gli servì per per calmare la ribellione dell'esercito adattando penso il suo discorso più alla circostanza che alla verità ma in tutta coscienza va considerata una tremenda sventura essere soggetti a un signore di cui non si può mai dire con certezza se sarà buono perché è sempre in suo potere essere malvagio secondo il proprio arbitrio e quanto più padroni si hanno tanto più sventurati ci si trova ma non voglio ora addentrarmi nella questione così spesso dibattuta se gli altri modi di governare la cosa pubblica siano migliori della monarchia se dovessi entrare in merito a tale questione prima di discutere a quale livello si debba collocare la monarchia tra i diversi tipi di governo vorrei un problema se essa si possa dire tale dato che mi sembra difficile credere che ci sia qualcosa di pubblico in un governo dove tutto è di uno solo ma riserviamo ad un altro momento la discussione di questo problema che richiederebbe di essere trattato a parte e si trascinerebbe dietro ogni sorta di disputa politica per ora vorrei solo riuscire a comprendere come mai tanti uomini tanti villaggi e città tante nazioni a volte sopportano un tiranno che non ha alcuna forza se non quella che gli viene data non ha potere di nuocere se non in quanto viene tollerato e non potrebbe far male ad alcuno se non nel caso che si preferisca sopportarlo anziché contraddirlo è un fatto davvero sorprendente e nello stesso tempo comune tanto che c'è più da dolersene che da meravigliarsene vedere uomini e milioni di uomini asserviti come miserabili messi a testa bassa sotto un gioco vergognoso non per costrizione di forza maggiore ma perché sembra siano affascinati e quasi stregati dal solo nome di uno di fronte al quale non dovrebbero né temere la forza dato che si tratta appunto di una persona sola né amare le qualità poiché si comporta verso di loro in modo del tutto inumano e selvaggio noi uomini siamo così deboli che sovente dobbiamo obbedire alla forza in questo caso è necessario prendere tempo non potendo sempre essere tra i più forti dunque se una nazione è costretta dalla forza delle armi a sottomettersi ad uno come la città di atenea e trenta tiranni non bisogna stupirsi della sua servitù ma compiangerla o meglio ancora né stupirsi né lamentarsi ma sopportare la disgrazia con rassegnazione e prepararsi per un'occasione migliore nel futuro la natura umana è fatta in modo tale che i doveri dell'amicizia assorbono buona parte della nostra vita è del tutto ragionevole amare la virtù avere stima delle buone azioni essere riconoscenti del bene ricevuto e a volte anche mettere un limite al nostro benessere per aumentare l'onore e i vantaggi di coloro che amiamo e che meritano di esserlo orbene ammettiamo che gli abitanti di un paese riescano a trovare uno di quei grandi personaggi che ha saputo dar loro prova di grande preveggenza su cui fare affidamento di grande coraggio a loro difesa di cura premurosa da poterli governare se ad un certo punto si trovano a loro agio nell'obbedirgli e gli danno fiducia fino a riconoscergli una certa supremazia non saprei proprio dire se agire con saggezza toglierlo da dove faceva bene per metterlo in una posizione dove potrebbe fare male in ogni caso ci risulta naturale volergli bene senza temere di riceverne del male ma buon Dio che faccenda è mai questa? come spiegarla? quale disgrazia? quale vizio? quale disgraziato vizio? fa sì che dobbiamo vedere un'infinità di uomini non solo ubbidire ma servire non essere governati ma tiranneggiati a tal punto che non possiedono più né beni né figli né genitori e neppure la propria vita vederli soffrire rapine, brigantaggi, crudeltà non da parte di un'armata o di un'orda di barbari contro cui si dovrebbe difendere la vita a prezzo del proprio sangue ma a causa di uno solo e non già di un Ercole o di un Sansone ma di un uomo che nella maggior parte dei casi è il più mobile ed effemminato di tutta una nazione che non ha mai provato la polvere delle battaglie e neppure quella di un torneo non solo incapace di imporsi agli uomini ma preoccupato di servire la più trascurabile donnicciola ebbene è forse debolezza tutto questo? chiameremo viri e codardi tutti coloro che gli si sono assoggettati che due, tre o quattro persone si lasciano sopraffare da uno è strano tuttavia può accadere in questo caso si potrà ben dire che è mancanza di coraggio ma se cento, se mille persone si lasciano opprimere da uno solo chi oserà ancora parlare di viltà di timore di scontrarsi con lui anziché affermare che si tratta di mancanza di volontà è di grande abiezione e se vediamo non cento o mille persone ma cento villaggi, mille città, milioni di uomini che non fanno nulla per attaccare e schiacciare uno solo che li tratta nel migliore dei casi come servi e schiavi come potremmo qualificare un simile fatto si tratta ancora di viltà ma in tutti i vizi ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare due uomini, ammettiamo anche dieci possono aver paura di uno ma se mille persone, che dico mille città, non si difendono da uno solo questa non è viltà non si può essere vigliacchi fino a questo punto così come avere coraggio non significa che un uomo si debba mettere da solo a scalare una fortezza attaccare un'armata, conquistare un regno che razza di vizio è allora questo? se non merita neppure il nome di viltà se non si riesce a qualificarlo con termini sufficientemente spregevoli se la natura stessa lo disapprova e il linguaggio rifiuta di nominarlo si mettano 50.000 uomini armati da una parte e dall'altra si schierino per la battaglia e combattano tra loro gli uni per la propria libertà gli altri per toglierla ai primi a chi presumibilmente toccherà la vittoria saranno più craggiosi in battaglia quelli che sperano di ottenere in premio il mantenimento della loro libertà o coloro che come ricompensa delle percosse date e subite non avranno se nulla servito altrui i primi hanno sempre davanti agli occhi la felicità del tempo passato e l'atteggia di una vita altrettanto lieta per l'avvenire non si preoccupano delle sofferenze che durano il tempo di una battaglia ma piuttosto pensano a tutte quelle che dovranno sopportare per sempre loro stessi i figli e tutti i discendenti gli altri invece non hanno nulla che possa dar loro slancio se non una punta di cupidigia che subito svanisce di fronte al pericolo in ogni caso il loro coraggio si ferma alla vista della più piccola goccia di sangue appena inizia ad uscire da una ferita ripensiamo alle famose battaglie di Milziade di Leonida e di Temistocle avvenute duemila anni fa ma ancora oggi così vive nel ricordo dei libri e degli uomini come se fossero successe l'altro giorno combattute in Grecia per il bene dei greci ma anche come esempi per il mondo intero ebbene domandiamoci da dove venne a così pochi uomini come a quel tempo i greci non dico la forza ma il coraggio di respingere flotte talmente potenti e numerose da coprire il mare e di sconfiggere così tante nazioni i cui eserciti avevano più capitani di quanto non fossero tutti i soldati greci messi insieme a mio avviso solo dal fatto che in quelle gloriose giornate non ci fu semplicemente una battaglia di greci contro persiani bensì avvenne la vittoria della libertà contro la tirannia della liberazione contro l'oppressione è una cosa davvero straordinaria osservare il coraggio che la libertà mette in animo a coloro che la difendono ma quel che avviene in tutti i paesi fra tutti gli uomini tutti i giorni e cioè che uno solo prima cento mille persone e le priva della loro libertà chi potrebbe mai crederlo se fosse semplicemente una notizia che ci giunge alle orecchie e non capitasse invece davanti ai nostri occhi e se questo accadesse in paesi lontani e qualcuno venisse a raccontarcelo chi di noi non penserebbe che si tratta di una pura invenzione va aggiunto inoltre che non c'è bisogno di combattere questo tiranno di toglierlo di mezzo e gli viene meno da solo basta che il popolo non la consenta più a servirlo non si tratta di sottrargli qualcosa ma di non attribuirgli niente non c'è bisogno che il paese si sforzi di fare qualcosa per il proprio bene è sufficiente che non faccia nulla a proprio danno sono dunque i popoli stessi che si lasciano o meglio si fanno incatenare poiché col semplice rifiuto di sottomettersi sarebbero liberati da ogni legame è il popolo che si assoggetta si taglia la gola da solo e potendo scegliere fra la servitù e la libertà rifiuta la sua indipendenza mette il collo sotto il gioco approva il proprio male anzi se lo procura se gli costasse qualcosa di acquistare la libertà non continuerei a sollecitarlo anche se riprendersi i propri diritti di natura e per così dire da bestia ridiventare uomo dovrebbe stargli il più possibile a cuore tuttavia non voglio esigere da lui un tale coraggio gli concedo pure di preferire una vita a suo modo sicura anche se miserabile ad una incerta speranza in una condizione migliore ma se per avere la libertà è sufficiente desiderarla con un semplice atto di volontà si troverà ancora al mondo un popolo che la ritenga troppo cara potendola ottenere con un desiderio può esistere un popolo che non se la senta di riavere un bene che si dovrebbe riscattare a prezzo del proprio sangue un bene la cui perdita rende insopportabile la vita e desiderabile la morte almeno per chi ha un minimo di dignità come il fuoco che da una piccola scintilla si fa sempre più grande e più trova legna più ne brucia ma si consuma da solo anche senza gettarvi sopra dell'acqua semplicemente non alimentandolo così i tiranni più saccheggiano e più esigono più distruggono e più ottengono mano libera più li si serve e più diventano forti forti e disposti a distruggere tutto ma se non si cede al loro volere se non si presta loro obbedienza allora senza alcuna lotta senza colpo ferire rimangono nudi e impotenti ridotti a un niente proprio come un albero che non ricevendo più la linfa vitale dalle radici subito rinsecchisce e muore gli uomini coraggiosi per conquistare il bene che desiderano non temono di affrontare il pericolo la gente intraprendente non rifiuta la fatica invece gli uomini deboli e pressoché storditi non sanno né sopportare il male né ricercare il bene limitandosi a desiderarlo la debolezza del loro animo toglie loro l'energia per arrivare al bene mantengono solo quel desiderio che è insito nella natura umana questa aspirazione è comune ai saggi e agli ignoranti ai coraggiosi e ai pusillanimi e faci che essi continuino ad avere il desiderio di tutte quelle cose che li potrebbero rendere felici in una sola cosa non so come mai sembra che la natura venga meno così che gli uomini non hanno la forza di desiderarla si tratta della libertà un bene così grande e dolce che una volta perduto vengono dietro tutti i mali mentre tutti i beni che solitamente le accompagnano corrotti dalla servitù non hanno più né gusto né sapore è così che gli uomini tutto desiderano eccetto la libertà forse perché lo terrebbero semplicemente desiderandola è come se si rifiutassero di fare questa conquista perché troppo facile povera gente insensata popoli ostinati nel male e ciechi nei confronti del vostro bene vi lasciate portare via sotto gli occhi tutti i vostri migliori guadagni permettete che seccheggino i vostri campi rubino nelle vostre case spogliandole dei vecchi mobili paterni vivete in condizioni da non poter più vantarvi di tenere una cosa che sia vostra e vi sembrerebbe addirittura di riceverne un gran favore se vi si lasciasse la metà dei vostri beni delle vostre famiglie della vostra stessa vita e tutti questi danni queste sventure questa rovina vi vengono non da molti nemici ma da uno solo da colui che voi stessi avete reso tanto potente è per suo amore che andate così coraggiosamente in guerra è per sua vanità che non esitate ad affrontare la morte costui che spadroneggia su di voi non ha che due occhi due mani un corpo e niente di più di quanto possiede l'ultimo abitante di tutte le vostre città so che ha in più e la libertà di mano che gli lasciate nel fare oppressione su di voi fino ad annientarvi da dove ha potuto prendere tanti occhi per spiarvi se non glieli avete prestati voi come può avere tante mani per prendervi se non è da voi che le ha ricevute e i piedi con i quali calpesta le vostre città non sono forse i vostri come fa ad avere potere su di voi senza che voi stessi vi prestiate al gioco come oserebbe balzarvi addosso se non fosse già d'accordo con voi che male potrebbe farvi se non foste complice del brigante che vi deruba dell'assassino che vi uccide se insomma non foste traditori di voi stessi voi seminate i campi per farvi distruggere il raccolto riempite di mobili e di vari oggetti le vostre case per lasciarveli derubare allevate le vostre figlie per soddisfare le sue voglie e i vostri figli perché il meglio che loro possa capitare è di essere trascinati in guerra condotti al macello trasformati in servi dei suoi desideri e in esecutori delle sue vendette vi ammazzate di fatica perché possa godersi le gioie della vita e darsi ai piaceri più turbi vi indebolite per renderlo più forte e più duro nel tenervi corta la briglia eppure da tutte queste infamie che le bestie stesse non riuscirebbero ad apprendere e che comunque non sopporterebbero potreste liberarvi se provaste non dico a scuotervele di dosso ma semplicemente a desiderare di farlo siate dunque decisi a non servire mai più e sarete liberi non voglio che scacciate il tiranno e lo buttate giù dal trono basta che non lo sostegnate più e lo vedrete corrollare a terra per il peso e andare in frantumi come un colosso a cui si è stato tolto il basamento certo i medici dicono che è inutile tentare di guarire le piaghe incurabili e in questo senso forse torto a voler dar consigli al popolo che da molto tempo ha perso del tutto conoscenza riguardo al male che l'affligge e proprio perché non lo sente più dimostra ormai che la sua malattia è mortale cerchiamo allora di scoprire per tentativi come questa ostinata volontà di servire ha potuto radicarsi a tal punto che lo stesso amore per la libertà non sembra più essere tanto naturale prima di tutto credo sia fuori dubbio che se vivessimo con quei diritti che la natura ci ha dato e secondo quegli insegnamenti che essa ci ha impartito saremmo senz'altro obbedienti verso i genitori soggetti alla ragione e servi di nessuno si tratta di un'obbedienza che ciascuno senza altra spinta che non sia quella della natura rende a suo padre e sua madre di questo tutti gli uomini possono essere testimoni di fronte a se stessi quanto invece al problema se la ragione sia innata o no questione dibattuta a fondo nelle accademie e affrontata da tutte le scuole filosofiche penso di non sbagliarmi dicendo che c'è nella nostra anima un seme naturale di ragione il quale una volta che sia mantenuta da buoni consigli e abitudini fiorisce in virtù mentre a volte non potendo resistere ai vizi che sopraggiungono col tempo muore soffocato ma certamente se c'è una cosa chiara ed evidente così che nessuno può permettersi di non vedere è che la natura stabilita da Dio a governare gli uomini ci ha fatti tutti allo stesso modo vale a dire dello stesso stampo così che potessimo riconoscerci l'un l'altro come compagni o piuttosto come fratelli e se nel distribuire i doni sia del corpo che dello spirito ha allargheggiato più con alcuni che con altri tuttavia non per questo ha voluto metterci al mondo come in una sorte di recinto da combattimento e non ha certo creato i più forti e i più furbi perché si comportassero come i briganti nella foresta che danno addosso ai più deboli piuttosto bisogna credere che la natura dando agli uni di più agli altri di meno abbia voluto porre le condizioni per un affetto fraterno che tutti potessero esercitare avendo gli uni la forza di recare aiuto gli altri bisogno di riceverne così dunque questa buona madre ha dato a tutti noi la terra da abitare mettendoci in un certo modo e in un'unica grande casa ci ha fatti tutti con lo stesso impasto così che ognuno potesse riconoscersi nel proprio fratello come in uno specchio se dunque a tutti noi ha fatto il grande dono della parola per comunicare diventare sempre più fratelli e arrivare tramite il continuo scambio delle nostre idee ad una comune volontà si ha cercato in tutti i modi di stringere sempre più saldamente il vincolo che ci lega in un patto di convivenza sociale se insomma sotto ogni punto di vista ha mostrato chiaramente di averci voluti non solo uniti ma addirittura una cosa sola allora non c'è dubbio che tutti siamo liberi per natura perché siamo tutti compagni e a nessuno può venire in mente che la natura dopo averci messi tutti quanti insieme come fratelli abbia potuto porre qualcuno nella condizione di servo ma forse non vale la pena discutere se la libertà sia naturale dato che è impossibile tenere qualcuno in schiavitù senza fargli un grande torto e nessuna cosa al mondo è più contraria alla natura dove tutto è razionale della ingiustizia dunque la libertà è naturale e a mio giudizio siamo nati non solo padroni della nostra libertà ma anche dotati della volontà di difenderla ora se per caso qualcuno nutrisse ancora dei dubbi su questo e si fosse talmente depravato da non riconoscere più neppure i beni della propria natura umana e gli affetti che gli sono originari è necessario rendergli l'onore che si merita e mettergli in cattedra per così dire le bestie priva di ragione che gli possono insegnare quale sia la sua natura e la sua condizione sì le bestie stesse per Dio a meno che gli uomini vogliano fare i sordi continuamente gridano viva la libertà infatti la maggior parte degli animali muore appena catturata come il pesce muore appena lo si toglie dall'acqua così tutti gli animali chiudono gli occhi alla luce del mondo piuttosto che continuare a vivere dopo aver perso la loro naturale condizione di libertà e se gli animali avessero tra loro diversi gradi di importanza penso che l'essere liberi costituirebbero la loro massima nobiltà altri animali dal più grande al più piccolo quando li si vuol prendere oppongono una tale resistenza con le unghie le corna il becco e ho i piedi che dimostrano in modo evidente quanto sia loro caro ciò che stanno per perdere poi una volta catturati danno chiari segni di malessere e si può benissimo notare che dal momento della cattura il loro non è un vivere ma un languire e stanno in vita più per lamentarsi della libertà perduta che per rassegnazione alla prigionia e quando l'elefante dopo essersi difeso fino all'estremo delle forze non avendo più via di scampo ed essendo ormai sul punto di essere preso si avventa con le macelle contro gli alberi e si spezza le zanne non dimostra forse il suo grande desiderio di restare libero com'è per natura cercando di venire a patti con i cacciatori e di lasciar loro i suoi denti pur di riuscire ad andarsene in cambio del lavoro e riacquistare la libertà e così il cavallo appena nato lo addestriamo a servire ma nonostante tutte le nostre attenzioni e carezze quando lo vogliamo domare dobbiamo ricorrere ai colpi di sperone per fargli mordere il freno quasi volesse far vedere alla natura che se deve servire non lo fa di suo istinto ma per costrizione altrui che dire ancora il bue stesso sotto il gioco si lamenta e c'è me l'uccellin rinchiuso in gabbia come ho scritto una volta quando per passatempo mi divertivo a comporre poesie e scrivendo a te longa non dubito affatto che mi riterrai un vanitoso se mi permetto di inserire la citazione delle mie rime che non leggerei mai se tu non riuscissi a darmi a intendere che ti piace ascoltarle così dunque se ogni essere che ha sentimento della propria esistenza vive l'infelicità della soggezione e corre dietro la libertà se gli animali che pur sono fatti per servire l'uomo non riescono ad abituarsi senza manifestare allo stesso tempo un istinto contrario quale oscuro male ha potuto snaturare a tal punto l'uomo l'unico ad essere nato propriamente per vivere libero da fargli perdere la memoria del suo primo stato e il desiderio di riacquistarlo vi sono tre tipi di tiranni alcuni ottengono il potere in base alla scelta del popolo altri con la forza delle armi gli ultimi infine per successione dinastica coloro che l'hanno avuto per diritto di guerra si comportano nel modo che tutti ben conoscono trovandosi come si usa dire in terra di conquista chi invece nasce re non è certo migliore anzi essendo nato e cresciuto in seno alla tirannia la natura di despota la succhiata con il latte considera infatti i popoli che gli sono sottomessi alla stregua di servi avuti in eredità e secondo l'inclinazione che si ritrova tratta il regno da avaro o da scialacquatore come fosse cosa sua propria infine per quanto riguarda colui che ha ricevuto il potere dal popolo mi sembra che dovrebbe essere più sopportabile e credo lo sarebbe se non fosse per il fatto che una volta vistosi innalzato sopra tutti gli altri confiato da un sentimento che non saprei definire ma che tutti chiamano senso di grandezza decide di non scenderne più di solito poi costui fa conto di lasciare ai figli il potere che il popolo gli ha affidato e dal momento che essi si mettono in testa questa idea è uno spettacolo tremendo osservare come sanno superare ogni tipo di vizi e perfino in crudeltà gli altri tiranni non trovando altro metodo per rafforzare la nuova tirannia se non quello di accrescere la schiavitù e di sradicare la libertà dall'animo dei loro sudditi a tal punto che per quanto l'abbiano ben presente nella memoria riescono a fargliela perdere così a dir la verità vedo che tra i vari tipi di tirannide vi ha qualche differenza ma non noto che vi sia la possibilità di una scelta poiché pur essendo diverse le vie per arrivare al potere il modo di regnare è sempre più o meno lo stesso coloro che sono eletti dal popolo lo trattano come un toro da domare che ha conquistato il regno pensa di avere su di lui il diritto di preda chi infine lo ha ereditato considera i sudditi come suoi schiavi naturali a questo proposito però vorrei chiedere ammettiamo per caso che oggi nasca un tipo di gente del tutto nuovo non abituata alla servitù né allettata dalla libertà che non sappia assolutamente nulla dell'una e dell'altra cosa se non ha malapena ai nomi se a costoro venisse presentata l'alternativa tra l'essere servi o il vivere liberi secondo quelle leggi che stabiliranno fra loro di comune accordo che cosa sceglierebbero non c'è dubbio che avrebbero più caro ubbidire soltanto alla ragione piuttosto che servire ad un uomo a meno che non siano come quei di israele che senza alcuna costrizione o necessità si crearono un tiranno e devo confessare che non riesco mai a leggere la storia di questo popolo senza provare una stizza tale da diventare quasi inumano nei suoi confronti arrivando a tal punto di rallegrarmi per tutte le disgrazie che gli sono poi capitate certamente perché tutti gli uomini fin quando almeno hanno qualcosa di umano si lasciano assoggettare è necessario una delle due esservi costretti o ingannati costretti dalle armi straniere come Sparta e Atene dall'esercito di Alessandro o dalle fazioni in gioco come il governo di Atene prima di cadere nelle mani di Pisistrato per inganno gli uomini perdono sovente la loro libertà e in questo un poco sono sedotti da altri più spesso però accade che siano loro stessi ad ingannarsi così gli abitanti di Siracusa la principale città della Sicilia assaliti da ogni parte preoccupati solo di salvarsi dal pericolo imminente chiamarono Dionigi I e gli diedero l'incarico di giudicare l'esercito contro il nemico senza badare al fatto di averlo reso così potente che una volta tornato vittorioso questo furfante come se avesse sconfitto non dei nemici ma i suoi stessi concittadini da capitano si fece promuovere re e da re tiranno e nessuno crederebbe come un popolo dopo essere stato sottomesso sprofondi subito in una tale dimenticanza della libertà che non gli è più possibile risvegliarsene per riacquistarla ma serve così di buon grado il tiranno che a vederlo si direbbe non già che ha perso la sua libertà ma che si è guadagnato la sua servitù è pur vero che all'inizio l'uomo serve a malincuore costretto da forza maggiore ma quelli che vengono dopo non avendo mai visto la libertà e non sapendo neppure cosa sia servono senza alcun rincrescimento e fanno volentieri di ciò che i loro padri hanno fatto per forza e così gli uomini che nascono con il gioco sul collo nutriti e allevati nella servitù senza sollevare lo sguardo un poco in avanti si accontentano di vivere come sono nati e non riuscendo a immaginare altri beni e altri diritti da quelli che si sono trovati dinnanzi prendono per naturale la condizione in cui sono nati e tuttavia non c'è erede tanto spensierato e incurante che qualche volta non dia un'occhiata ai registri di famiglia per vedere se gode di tutti i diritti di successione o se invece non sia avvenuta qualche macchinazione contro di lui o contro i suoi predecessori ma è anche vero che la consuetudine la quale ha un grande influsso su tutte le nostre azioni esercita il suo potere soprattutto nell'insegnarsi a servire e come Mitridate che si abituò a bere il veleno ci rende alla fine a sue fatti a trangugiare normalmente il veleno della servitù senza sentirne l'amaro certamente nel tendere verso il bene o verso il male gioca in gran parte la natura che ci spinge dove vuole ma bisogna ammettere che essa ha meno potere su di noi di quanto non l'abbia la consuetudine perché la nostra indole per quanto possa essere buona va persa se non si cerca di mantenerla l'educazione insomma lascia sempre la sua impronta malgrado le tendenze naturali i semi del bene che la natura mette dentro di noi sono così piccoli e fragili che non possono resistere al benché minimo impatto con un'educazione di segno contrario inoltre non è semplice conservarli poiché con molta facilità si chiudono in sé degenerano e finiscono in niente né più né meno degli alberi da frutta che hanno ognuno la loro particolarità e la mantengono se li si lascia crescere in modo naturale ma perdono ben presto le loro caratteristiche e producono frutti estranei se si operano degli innesti perfino ogni erba ha le sue proprietà naturali tuttavia il gelo il tempo il terreno la mano del giardiniere influiscono molto sulla loro qualità sia nel peggiorarla che nel migliorarla una pianta vista in un dato luogo in un altro si riconosce a fatica chi vedesse i veneziani questo piccolo popolo vivere una vita così libera che il più meschino tra loro non si sognerebbe di diventare re nati e allevati in modo tale da avere una sola ambizione quella di dare ognuno miglior prova dell'altro nel conservare gelosamente la libertà educati fin dalla culla in questo senso così che non cederebbero neppure un'oncia della loro libertà in cambio di tutte le altre felicità della terra ebbene dicevo chi vedesse questa gente e poi se ne andasse nelle terre di colui che chiamiamo gran signore trovandovi un popolo nato per servire e votato per tutta la vita a mantenere il suo potere riuscirebbe mai a pensare che gli uni e gli altri sono della stessa natura o piuttosto non crederebbe di essere uscito da una città di uomini per entrare in un parco di animali si dice che Licurgo il gislatore di Sparta avesse allevato due cani tutti e due fratelli e allattati dalla stessa cania tenendone uno a ingrassare in cucina e abituando l'altro a correre nei campi al suono della tromba e del corno volendo far vedere agli spartani che gli uomini sono come li fa l'educazione portò i cani in piazza e mise loro vicino una minestra e una lepre il primo si buttò sulla scodella l'altro corse dietro alla lepre eppure concluse Licurgo sono fratelli così questo grand'uomo con le sue leggi seppe dare una tale educazione agli spartani che ciascuno di loro avrebbe avuto più caro morire mille volte piuttosto che riconoscere altro signore all'infuori della legge e della ragione a questo proposito vorrei ricordare la conversazione che si tenne tra uno dei più alti rappresentanti di Cerse il grande re dei persiani e due spartani durante i preparativi per la conquista della Grecia Cerse mandò i suoi ambasciatori nelle città di quella regione a chiedere l'acqua e la terra formula con la quale i persiani erano soliti intimare alle città di sottomettersi ma ad Atene e Sparta non ne inviò ricordandosi che quando Dario suo padre li aveva voluti mandare furono buttati dagli Ateniesi in un fosso e dagli spartani in un pozzo e si sentirono rivolgere prendete pure di qui tutta l'acqua e la terra che volete e portatela al vostro re a tal punto giungeva la loro insofferenza anche per la più piccola parola che suonasse offesa alla loro libertà tuttavia per aver agito in questo modo gli spartani si accorsero di aver provocato l'ira degli dei soprattutto di Taltibio dio dei messaggeri allora per rabbonire Cerse pensarono di mandargli due cittadini perché li trattasse a suo arbitrio e potesse così vendicarsi degli ambasciatori che erano stati uccisi al suo padre due spartani l'uno chiamato Sperto l'altro Buli si offrirono volentieri per andare a pagare di persona questo debito dunsero così al palazzo di un persiano chiamato Gidamo logotenente del re per tutte le città della costa asiatica costui fece loro grandi onori e conversando su vari argomenti con i suoi ospiti ad un certo punto chiese per quale motivo rifiutassero così decisamente l'amicizia del suo grande re e aggiunse guardate me per esempio e noterete allora come il re sa ricompensare coloro che se ne rendono degni credetemi se vi metteste al suo servizio si comporterebbero allo stesso modo anche verso di voi sono sicuro che se vi conoscesse ognuno di voi diventerebbe signore di una città della Grecia in queste cose gli damo non puoi darci alcun consiglio rispossero gli spartani perché tu hai gustato il bene che ci prometti ma non conosci quello che godiamo noi tu hai provato i favori del re ma non sai che sapore abbia la libertà e quanto essa sia dolce se l'avessi anche solo sfiorata tu stesso ci consiglieresti di difenderla non soltanto con la lancia e lo scudo ma con le unghie e i denti solo gli spartani erano nel giusto ma è certo che gli uni e gli altri parlavano come erano stati educati era infatti impossibile il funzionario persiano rimpiangere le libertà non avendola mai provata così come gli spartani non potevano sottomettersi al gioco avendola gustata appieno Catone Luticense quando era ancora fanciullo e sotto la guida del precettore si trovava spesso a casa di Silla il dittatore alla quale aveva libero ingresso sia per il rango della famiglia a cui apparteneva sia per la stretta parentela ci andava sempre in compagnia del suo precettore come era abitudine dei figli di nobile famiglia e frequentando questa casa si accorse che in presenza di Silla oppure su suo ordine c'era chi veniva messo in prigione un altro che veniva condannato uno che veniva esiliato un altro strangolato e vi erano poi coloro che facevano richiesta di confisca ai danni di un cittadino o addirittura ne chiedevano la testa in poche parole sembrava di essere non a casa di un rappresentante della città ma palazzo di un tiranno del popolo non a un tribunale di giustizia ma in una spelonca di tiranni allora questo giovinetto rivolgendosi al precettore disse perché non mi date un pugnale che possa nascondere sotto il vestito io entro spesso in camera di Silla prima che si alzi e ho il braccio abbastanza forte per liberarne la città ecco un discorso davvero d'accatone l'inizio di una vita in nulla inferiore alla dignità della sua morte lasciamo pur perdere il nome e l'origine di questo personaggio si presenti l'episodio per quello che è il fatto parla da solo e senza pensarci su molto si potrà arrivare a dire che quel ragazzo era romano nato nel cuore della vera Roma quando essa era libera perché dico questo non certo perché ritenga che il luogo o il clima possano giovare a qualcosa dato che in ogni paese sotto qualsiasi latitudine è amara la servitù e dolce la libertà ma perché sono del parere che si debba avere pietà di coloro che fin dalla nascita si sono trovati il gioco sul collo che li si scusi o comunque li si perdoni se non avendo mai visto neppure l'ombra della libertà e non avendone mai avuto sentore non si accorgono di quel grave danno che è l'essere servi se ci fossero veramente dei paesi come racconta Omero a proposito dei cimmeri dove il sole si mostra in modo tutto diverso da come appare a noi illuminandoli per sei mesi di seguito e per altri sei lasciandoli completamente al buio senza farsi rivedere ci si potrebbe meravigliare se coloro che nascono durante questa lunga notte si abituassero a vivere nelle tenebre dove sono nati senza desiderare la luce del giorno non avendone mai sentito parlare e non avendola mai vista non si può rimpiangere quello che non si ha mai avuto e il rammarico viene solo dopo il piacere e sempre la conoscenza del male fa nascere il ricordo della felicità del tempo passato per natura l'uomo è e vuole essere libero ma anche la sua natura è fatta in modo tale da prendere la piega che gli dà l'educazione diciamo dunque che tutto ciò cui l'uomo si abitua fin da bambino gli diviene naturale ma in lui di propriamente naturale e originario vi è solo quello a cui lo sollecita la natura semplice e schietta così la prima ragione della servitù volontaria risulta essere la consuetudine proprio come quei destreari cortaldi che all'inizio mordono il freno ma poi ci pigliano gusto e mentre nei primi giorni si mostrano recalcitranti appena si mette loro sopra la sella in seguito imparano a sfilare nelle loro ricche bardature e se ne vanno tutti fieri e orgogliosi dei loro finimenti a volte si sente affermare tranquillamente di essere stati sempre sottomessi e che già i padri hanno vissuto in queste condizioni costoro pensano di essere obbligati a sopportare questo danno si persuadono l'un l'altro con degli esempi e sono loro stessi col trascorrere del tempo a legittimare il potere di coloro che li tiranneggiano ma il passare degli anni a ben vedere non ha certo diritto a comportarsi male anzi aggrava l'ingiustizia è ben vero che si trova sempre qualcuno più fiero degli altri che sente il peso del gioco non può trattenersi dallo scuoterlo e non riesce ad abituarsi alla servitù costui come Ulisse che per mare e per terra cercava continuamente di rivedere il fumo della sua casa non riesce a dimenticare i suoi naturali diritti e non pensare a coloro che l'hanno preceduto e alla condizione in cui vivevano sono proprio persone di questo tipo che avendo chiari intendimenti e spirito lungimirante non si accontentano come la plebaglia di guardare a ciò che sta loro immediatamente d'innanzi ma hanno l'occhio attento al passato e a ciò che potrà accadere nel futuro si rifanno alle cose avvenute un tempo per giudicare il presente e discutere l'avvenire costoro avendo avuto per natura uno spirito acuto l'hanno saputo anche educare con lo studio e la scienza e quando anche la libertà fosse andata completamente perduta e scomparsa dalla faccia della terra essi rivivendola nel proprio spirito riuscirebbero ancora ad assaporarla e mai la servitù sarà di loro gusto per quanto possa mascherarsi o abbellirsi il gran turco si è ben accorto che sono i libri e l'insegnamento molto più di ogni altra cosa a mettere nel cuore degli uomini il sentimento di sé il riconoscimento della propria dignità e l'odio per il tiranno per questo sento dire che nelle sue terre non vi sono molte persone di scienza e neppure le richiede comunque lo zelo di tutti coloro che malgrado i tempi sono rimasti attaccati alla libertà per quanto numerosi essi siano rimane senza effetto perché non si conoscono tra loro sotto la tirannia ogni libertà di fare di parlare e quasi di pensare viene loro tolta così rimangono tutti soli e isolati nei loro desideri va dunque riconosciuto che Momo il dio burlone non scherzava poi tanto quando trovava da ridire sull'uomo che aveva creato Vulcano perché non gli era stata messa una piccola finestra sul cuore così da poterne leggere i pensieri si dice che quando Bruto e Cassio si misero all'impresa per liberare Roma o per meglio dire il mondo intero non vogliono che Cicerone questo grande uomo pieno di zelo per il bene comune come mai ve ne fu si schierasse dalla loro parte perché ritenevano che avesse il cuore troppo debole per partecipare a un evento così decisivo credevano nella sua buona volontà ma non facevano affidamento sul suo coraggio e tuttavia chi vorrà tornare a riflettere sui fatti del passato e consultare antichi annali passando in rassegna a tutti coloro che vedendo il proprio paese alla deriva e in cattive mani si misero all'opera per liberarlo con l'intenzione sincera e dedizione totale ne troverà ben pochi che non abbiano raggiunto lo scopo perché la libertà si fa largo per conto suo armodio aristogitone trasibulo brutto il vecchio valerio ed iones tutti quanti concepirono questo giusto progetto e lo realizzarono felicemente in questi casi alla buona volontà non manca quasi mai la fortuna anche brutto il giovane e cassio riuscirono ad eliminare la causa della schiavitù fu invece nel tentativo di riportare la libertà a Roma che essi morirono non miseramente sarebbe veramente un'infamia cercare nella vita o nella morte di questi eroi indegnità e miserie ma certo con grave danno sventura perenne e definitiva rovina della repubblica che mi sembra fu sotterrata con loro le imprese successive compiute contro gli imperatori romani non furono altro che congiure di gente ambiziosa la quale non deve certo essere compianta per gli inconvenienti cui andò incontro essendo a tutti evidente che desideravano semplicemente far cadere una corona non togliere il re cacciare sì il despota ma tenere in vita la tirannide riguardo a costoro sarei dispiaciuto se fossero riusciti nel loro scopo e son ben contento che oggi possano essere portati a dimostrazione del fatto che non bisogna abusare del santo nome della libertà per compiere imprese malvagie ma per tornare al nostro argomento che avevo quasi perso di vista la prima ragione per cui gli uomini servono di buon animo è perché nascono servi e sono allevati come tali da qui deriva quest'altro fatto molto facilmente sotto la tirannia ci si rammollisce e si diventa effeminati fu Ippocrate il padre della medicina ad accorgersi di questo e a scriverlo in uno dei suoi libri dal titolo e le malattie e di questa sua intuizione dobbiamo essergli assolutamente grati questo personaggio aveva senza dubbio un cuore generoso e lo dimostrò in un'occasione poiché il grande sovrano lo voleva presso di sé e lo sollecitava continuamente con varie profferte e con grandi donativi Ippocrate un giorno gli rispose in tutta franchezza che avrebbe avuto dei problemi di coscienza nel mettersi a curare dei barbari che volevano uccidere il suo popolo e nel rendersi condiscendente al loro re che si stava preparando ad assoggettare la Grecia la lettera che Ippocrate inviò al re contenente queste affermazioni si può leggere ancora oggi nelle sue opere e rimarrà per sempre una testimonianza del suo coraggio e del suo nobile carattere è ormai certo che con la libertà si perde allo stesso tempo anche il coraggio gli uomini sottomessi vanno in battaglia senza alcuna baldanza ed ardimento affrontano il pericolo l'uno appiccicato all'altro intorpiditi tanto per adempiere ad un obbligo e non si sentono bollire il sangue nelle vene per l'ardore della libertà che sola fa disprezzare il pericolo e nasce il desiderio di acquistare l'onore della gloria fra tutti i compagni con un bel morire al contrario la gente libera si fa a gara per vedere chi è il migliore combattendo per sé e per il bene comune aspettando tutti di avere la propria parte di bene in caso di vittoria o la parte di male nella sconfitta e invece la gente asservita non ha più questo coraggio da guerrieri anzi non riesce neppure ad essere vivace nelle altre cose perché possiede un animo ristretto e incapace di aspirare a qualcosa di grande i tiranni sanno bene tutto questo e vedendo i loro sudditi prendere una simile piega li sfingono in questa direzione così da renderli ancora più fiacchi e indolenti senofonte storico in signe tra i più grandi della grecia scrisse un libretto dove si può trovare il dialogo di simonide con ierone re di siracusa sulle miserie del tiranno è un libro pieno di gravi ma giusti rimproveri esposti a mio parere nel tono più adatto possibile avesse voluto il dio che tutti i tiranni quanti vi sono stati sulla terra se lo fossero tenuto davanti agli occhi così da farsene specchio sono sicuro che in questo modo avrebbero potuto riconoscere sulla propria faccia i segni del vizio e provarne grande vergogna in questo trattato viene descritta la vita penosa che trascorrono i tiranni i quali facendo del male a tutti sono costretti a temere continuamente di riceverlo da ciascuno tra tante cose vi è infatto anche notare che i re malvagi si servono di stranieri presi come mercenari per fare le guerre non fidandosi di mettere le armi in mano alla loro gente cui hanno fatto ogni specie di torto , ci sono stati a dire il vero dei buoni sovrani che hanno assoldato stranieri alcuni tra gli stessi re di Francia anche se più in passato che non oggi ma con l'unica intenzione di mantenere in vita il proprio popolo non preoccupandosi di spendere denaro pur di risparmiare uomini come diceva se ben mi ricordo Scipione l'Africano preferirei salvare la vita di un cittadino piuttosto che uccidere cento nemici ma è certo che i tiranni non sono mai tranquilli e sicuri di avere in mano tutto il potere fino a quando non giungono al punto di non avere più sotto di sé alcun uomo di coraggio dunque a buon diritto si potrà dir loro quel che trasone in una commedia di Terenzio si vanta di aver rinfacciato al domatore degli elefanti tu ti reputi molto abile avendo a che fare con delle bestie questa astuzia dei tiranni nell'abbruttire i propri sudditi più che in ogni altro caso si è manifestata in modo evidente nel trattamento che Ciro riservò agli abitanti della Lidia dopo essersi impadronito di Sardi capitale di quella regione e dopo aver fatto schiavo il ricchissimo re Creso che si era rimesso nelle sue mani giunse notizia a Ciro che gli abitanti di Sardi erano scesi in rivolta avrebbe potuto ridurli in un attimo ai suoi voleri ma non volendo distruggere una città così bella e neppure essere obbligato a tenervi di guardia a un esercito per garantirse nella sottomissione ricorse a questo espediente vi fece collocare bordelli taverne e giochi pubblici e bandì un'ordinanza con cui i cittadini erano autorizzati a farne uso come volevano e questa specie di guarnigione gli rese così buon servizio che da allora non ci fu più bisogno neppure di un solo colpo di spada contro gli abitanti della Lidia questi poveracci si divertivano a inventare ogni tipo di gioco a tal punto che i latini per indicare ciò che noi chiamiamo passatempi trassero dal loro nome il termine ludi non tutti i tiranni hanno mostrato così apertamente di voler effeminare i loro sudditi ma di fatto quanto Ciro ordinò formalmente gli altri per la maggior parte sono riusciti ad ottenerlo di nascosto in effetti questa è la tendenza naturale della plebaglia che solitamente si ritrova più numerosa nelle città è sospettosa nei riguardi di chi le vuole bene mentre è ingenua e pronta a tutto verso chi li inganna non vi è uccello che si lascia prendere così agevolmente nella pania o pesce che abbocchi in fretta all'amo quanto facilmente si facciano allettare dalla schiavitù tutti i popoli appena ne avvertono il più leggero profumo sotto il naso ed è veramente una cosa fuori dal comune vedere come cedano sull'istante alla minima lusinga teatri giochi commedia spettacoli gladiatori animali esotici esposizioni di medaglie di vari dipinti e altre droghe di questo tipo costituivano per i popoli antichi l'esca per la schiavitù il prezzo della loro libertà gli strumenti della tirannia insomma tutto un sistema congegnato degli antichi tiranni per addormentare i sudditi sotto il gioco così i popoli inebetiti e incantati da simili passatempi divertendosi in modo insulso con quei piaceri che venivano fatti passare davanti ai loro occhi si abituavano a servire in questo modo del tutto sciocco peggio ancora dei bambini che imparano a leggere per via delle immagini colorate e delle miniature che si trovano sui libri a tutti questi stratagemmi i tiranni romani aggiunsero l'usanza di festeggiare spesso le decurie pubbliche prendendo per la gola questa gente abbruttita che non aspettava altro il più accorto e intelligente fra tutti costoro non avrebbe dato il suo piatto di minestra per scoprire la libertà della repubblica di platone in queste occasioni i tiranni facevano i generosi distribuendo quarti di grano qualche sestario di vino e un po' di sesterzi e allora era davvero uno spettacolo penoso sentir gridare viva il re quegli sciocchi non si accorgevano che stavano semplicemente recuperando una parte dei propri beni e che anche quel poco che stavano ricevendo poteva essere donato dal tiranno solo perché prima li aveva derubati in tal modo nel giorno di festa la gente raccoglieva sesterzi e gozzovigliava ringraziando Tiberio o Nerone per la loro generosità per poi essere costretti il giorno dopo a consegnare i propri beni i figli la vita stessa alla vidità alla lussuria e alla crudeltà di questi magnifici imperatori senza osar dire una parola muti come un sasso e senza fare il minimo movimento immobili come piante la plebaglia si è sempre comportata in questo modo subito disposta a perdersi nei piaceri che onestamente non potrebbe accettare insensibili al torto e alle sofferenze che non dovrebbe ulteriormente sopportare attualmente non c'è nessuno che sentendo parlare di Nerone non tremi al solo nome di quel mostro tremendo di quell'orribile e turpe flagello del mondo e tuttavia allorché questo incendiario questo boia questa bestia selvaggia morì in modo disonesto come tutta la sua vita il famoso popolo romano ricordando i suoi giochi e i suoi festini rimase talmente dispiaciuto che fu sul punto di portarne il lutto così almeno ci ha lasciato scritto tacito storico tra i più attendibili e straordinariamente serio tutto questo non deve sembrar strano visto che il popolo romano aveva fatto altrettanto qualche tempo prima in occasione della morte di Giulio Cesare che aveva messo completamente da parte leggi e libertà personaggio in cui non mi sembra si sia potuto trovare qualcosa di valido dato che la sua stessa umanità solitamente tanto esaltata è stata più dannosa che non le crudeltà del tiranno più sanguinario che si ha mai vissuto infatti fu proprio questa sua velenosa dolcezza che indorò la pillola della servitù al popolo romano e così dopo la sua morte questo popolo che aveva ancora la bocca piena dei suoi banchetti e il ricordo vivo delle sue prodigalità per rendergli onore e avere le sue ceneri fece a gara nell'ammucchiare i banchi del foro per formarne un rogo poi eressero una colonna a colui che vollero considerare padre della patria così stava scritto sul capitello e gli fecero più onore da morto di quanto se ne sarebbe dovuto fare di diritto a un eroe vivo se non addirittura a quegli stessi che l'avevano ammazzato gli imperatori romani non dimenticavano neppure di assumere comunemente il titolo di tribuno del popolo sia perché questo incarico era considerato sacrosanto sia per il fatto che era finalizzato alla difesa e alla protezione del popolo in questo modo con il favore dello stato si garantivano la fiducia del popolo come se quest'ultimo dovesse accontentarsi del nome senza sentire gli effetti concreti della tirannia e oggi non si comportano molto meglio coloro che ogni qualvolta compiono un crimine anche molto grave lo ammantano di qualche bel discorso sul bene comune e sull'utilità pubblica e tu sai bene mio caro Longa il vasto formulario di cui potrebbero in molti casi fare elegante uso ma la stragrande maggioranza dei tiranni non si affida a troppe sottigliezze sostenendosi piuttosto sulla più grande impudenza i re della Siria e dopo di loro anche quelli della media usavano presentarsi in pubblico il più raramente possibile per far nascere il dubbio al popolo che essi fossero qualcosa di più che uomini e lasciarlo così in queste immaginazioni dato che la gente lavora volentieri di fantasia su quelle cose che non può giudicare e vedere di persona creata così quest'aura di mistero attorno al sovrano tante nazioni che rimasero a lungo sotto l'impero al Siro si abituarono a servire tanto più volentieri quanto più non sapevano che padrone avessero anzi se l'avessero davvero o no nutriendo timore in base alla credenza di un essere che nessuno era mai riuscito a vedere i primi re d'Egitto non si mostravano quasi mai in pubblico senza portare ora un ramo d'albero ora perfino del fuoco sulla testa e mascherandosi in questo modo e comportandosi come dei ciarlatani ispiravano con queste stranezze rispetto e ammirazione ai loro sudditi che se non fossero stati troppo sciocchi o troppo osservili avrebbero dovuto assistere a quella squallida buffonata solo per riderci sopra è davvero pietoso ricordare quanti stratagemmi abbiano messo in atto i sovrani di un tempo per impiantare la loro tirannia di quali mezzucci si siano serviti trovandosi davanti una plebaglia fatta apposta per loro incapace di evitare qualsiasi trabocchetto che le venisse teso ingannata con estrema facilità e tanto più sottomessa quanto più il tiranno si prendeva gioco di lei e che dire di un'altra bella favola che i popoli antichi prendevano per oro colato essi credevano fermamente che l'alluce di Pirro re delle Piro facesse miracoli e guarisse le malattie della milza anzi quasi a voler rincarare la dose erano convinti che quel dito quando alla morte di Pirro ne venne bruciato il corpo fosse sfuggito al fuoco e si fosse ritrovato integro in mezzo alle ceneri così il popolo si è sempre fabbricato da solo nei più sciocche fandonie per poi poterci credere e molte di queste sono state anche scritte ma in uno stile tale che se ne può facilmente scorgere l'origine nelle chiacchiere del popolino raccolte agli angoli delle strade così si dice che Vespasiano nel suo viaggio dalla Siria a Roma dove si recava per impadronirsi dell'impero abbia fatto sosta ad Alessandria dove compì ogni sorta di miracoli redirizzò gli zoppi diede la vista ai ciechi e fece tante altre cose meravigliose che potevano essere credute a mio avviso solo da gente più cieca di quelli che sarebbe riuscito a guarire e i tiranni stessi trovavano del tutto strano il fatto che la gente potesse sopportare un uomo che continuamente la maltrattava per questo decisero di mettersi davanti la religione come scudo e nella misura del possibile assumere una qualche sembianza di divinità per non dover rendere conto della propria vita malvagia per questo Salmoneo se crediamo alla Sibilla di Virgilio racconta ora in fondo all'inferno le sue pene per aver ingannato il popolo e aver fatto credere d'essere Giove vidi anche i crudeli tormenti di Salmoneo imitava costui le fiamme di Giove e i fragori d'Olimpo passava costui trasportato da quattro cavalli agitando una fiaccola per mezzo alle genti dei greci cercando al regno dell'Elide onori divini folle pensava imitare il bagliore dei lampi e i nembi col carro di bronzo e il fragor dei cavalli ma un fulmine Giove scagliò dal torbido cielo che Giove non torce fumose lanciava e precipite giù lo travolse con un turbina immane ora se costui che in fondo non era che un povero sciocco viene trattato così bene laggiù credo proprio che tutti coloro i quali hanno abusato della religione per fare del male saranno trattati ancora meglio anche che i nostri sovrani sparsero per la Francia una quantità di cose tra le più disperate e indefinibili rospi fiordalisi orifiamma in ogni modo per quel che mi riguarda non voglio passare per miscredente nei confronti di tutte queste cose poiché né noi né i nostri antenati abbiamo avuto finora ragione d'esserlo essendoci sempre toccati sovrani tanto buoni in pace e così prodi in guerra che pur essendo re dalla nascita non sembrano fatti dalla natura come gli altri bensì ancora prima di venire al mondo scelti da Dio onnipotente per governare e conservare questo regno comunque anche se ciò non fosse non ho certo l'intenzione di mettermi a discutere la verità delle nostre tradizioni e neppure di esaminarla in modo minuzioso non volendo privare di questi bei temi la nostra poesia francese che senz'altro saprà trovare in essi il soggetto per tante esercitazioni e già ora viene migliorata anzi rimessa a nuovo dai nostri Lonsard Baif Dubéli questi grandi poeti stanno facendo progredire la nostra lingua a tal punto da poter sperare che ben presto i greci e i latini ci saranno superiori solo per il fatto di essere stati i primi e certo farei un gran torto alle nostre rime uso volentieri questo termine che a me non dispiace perché anche se molti l'hanno reso un fatto puramente meccanico tuttavia vedo altrettante persone che si sono messi a rinobilitarlo e a restituirlo agli antichi onori farei un gran torto dicevo a sottrarre ai poeti i bei racconti di Reck Lodoveo sui quali già si esercitò mi sembra con grande maestria e sicurezza la vena vivace del nostro ronsar nella sua franciade intendo la sua portata conosco il suo spirito acuto e il suo garbo nello scrivere saprà cavarsela in modo eccellente con l'orifiamma come già i romani con i sacri scudi caduti giù dal cielo di cui parla Virgilio e riuscirà a trarre buon profitto dalla nostra ampolla così come gli ateniesi dal canestro di Erisittone farà in modo che tutti parlino delle nostre armi come del loro ulivo che tengono ancora nella torre di Minerva sarai dunque temerario a voler smentire i testi della nostra tradizione e cancellare così tutte le tracce che vengono seguite dai nostri poeti ma per tornare all'argomento da cui non so come mi sono lasciato deviare non si è mai dato il caso che i tiranni in vista della propria tranquillità non abbiano fatto ogni sforzo per aiutare il popolo non solo all'obbedienza e alla servitù ma anche alla devozione nei propri confronti dunque tutte le cose da me dette finora su quel che occorre per abituare la gente alla servitù volontaria vengono usate dai tiranni solo per il popolo più grossolano e ignorante ma ora arrivo al punto che a mio avviso costituisce l'origine nascosta del dominio il sostegno e il fondamento della tirannia chi pensa che le alabarde le sentinelle le squadre di ronda proteggono il tiranno secondo me si sbaglia di grosso credo che gli siano d'aiuto più come cerimoniale o come spauracchio che non per la fiducia che dovrebbe avere in tutto questo apparato di difesa gli arcieri impediscono di entrare a palazzo agli sprovveduti senza mezzi non a chi è bene armato e agli uomini d'azione tra gli imperatori romani è facile contare quei pochi che sono riusciti a salvarsi da qualche pericolo per l'aiuto dei soli soldati più fedeli al contrario di tutti coloro e sono la maggior parte che sono stati uccisi dalle loro stesse guardie del corpo non sono gli squadroni a cavallo non sono le schiere di fanti non sono insomma le armi a difendere il tiranno capisco che al primo momento è difficile crederlo ma è così sono sempre cinque o sei persone che lo mantengono al potere e gli tengono tutto il paese in schiavitù è sempre stato così questi cinque o sei hanno avuto la fiducia del tiranno e sia perché si sono fatti avanti da soli sia perché il tiranno stesso li ha chiamati sono diventati complici delle sue crudeltà compagni dei suoi divertimenti ruffiani dei suoi piaceri soci nello spartirsi il frutto delle ruberie questi sei personaggi inoltre tengono vicino a sé 600 uomini dei quali approfittano facendo di loro quel che hanno fatto del tiranno i 600 a loro volta ne hanno 6.000 sotto di sé ai quali conferiscono onori e cariche fanno assegnare loro il governo delle province oppure l'amministrazione del denaro pubblico così da ottenerne valido sostegno alla propria avarizia e crudeltà una volta che costore abbiano imparato a mettere in atto le varie malefatte al momento opportuno d'altra parte facendone di ogni sorta questi 6.000 possono mantenersi solo sotto la protezione dei primi e sfuggire così alle leggi e alla forca e dopo tutti questi la fila prosegue senza fine chi volesse divertirsi a dipanare questa matassa si accorgerebbe che non 6.000 ma 100.000 anzi milioni formano questa trafila e stanno attaccati al tiranno proprio come afferma Giove che nel racconto di Omero si vanta di poter tirare a sé tutti gli dèi dando uno strattone alla catena di qui venne l'aumento di potere al senato sotto Giulio Cesare l'istituzione di nuove funzioni e la creazione dei vari incarichi a ben vedere non certo per riorganizzare la giustizia ma per dare nuovi punti di appoggio alla tirannia insomma tra favori e protezioni guadagni e colpi messi a segno quanti traggono profitto dalla tirannia sono quasi pari a coloro che preferirebbero la libertà è come quando dicono i medici in una parte del nostro corpo c'è qualcosa di infetto se in un altro punto si manifesta un piccolo male subito si congiunge alla parte malata così appena il re diventa tiranno tutta la feccia del regno e non intendo con questa un branco di ladruncoli conosciuti da tutti che in una repubblica possono fare ben poco sia in bene che in male bensì tutti coloro che sono posseduti da un'ambizione senza limiti e da un'avidità sfrenata si raggruppano intorno a lui e lo sostengono in tutti i modi per avere parte al bottino e diventare essi stessi tanti piccoli tiranni sotto quello grande allo stesso modo si comportano i grandi ladri e i famosi corsari gli uni fanno scorribande per il territorio gli altri pedinano i viaggiatori i primi tendono in boscate i secondi stanno in agguato questi trucidano quegli spogliano eppure essendoci tra loro vaghi ranghi di ordine di importanza i primi semplici esecutori gli altri capi della banda alla fine non c'è nessuno di loro che non abbia avuto la sua parte se non proprio al bottino principale almeno a qualche frutto delle rapine si racconta che i pirati della Cilicia si raccolsero una volta in così gran numero che si rese necessario mandare contro di loro Pompeo il Grande non solo ma riuscirono perfino a tracinare nella loro alleanza molti città tra le più belle e popolose nei loro porti trovavano rifugio dopo le varie scorribande e come ricompensa vi lasciavano una parte del bottino che quelle città si erano impegnate a custodire così il tiranno prima i suoi sudditi gli uni per mezzo degli altri e viene difeso proprio da chi se non fosse un buono a nulla dovrebbe temere di essere attaccato secondo il detto che per spaccare la legna si vogliono dei cunei dello stesso legno ed ecco i suoi arcieri le sue guardie i suoi labardieri certo qualche volta anche essi sono trattati male dal tiranno ma questi miserabili abbandonati da Dio e dagli uomini sono contenti di sopportare dei danni pur di rifarsi non già su colui che ne è la causa ma su tutti quelli che come loro sopportano senza poter far nulla eppure vedendo questa gente che striscia ai piedi del despota per trarre profitto dalla sua tirannia e dalla servitù del popolo spesso mi stupisce la loro malvagità altre volte invece è la loro stupidità che mi fa pena perché diciamo la verità che altro può significare avvicinarsi al tiranno se non allontanarsi dalla propria libertà e abbracciare anzi per meglio dire tenersi stretta la servitù mettano un momento da parte la loro ambizione lasciano perdere un poco la loro avarizia poi guardino e considerino attentamente se stessi vedranno chiaramente che questi contadini e paesani che si mettono sotto i piedi appena possono e trattano peggio dei galeotti e degli schiavi benché maltrattati in questo modo al loro confronto sono tuttavia più felici e in un certo senso più liberi il contadino e l'artigiano per quanto siano asserviti una volta fatto quanto è stato loro ordinato sono a posto ma quelli che il tiranno vede vicino a sé veri e propri birbanti sempre a mendicare i suoi favori sono obbligati non solo a fare quello che dice ma anche a pensare come lui vuole e spesso per accontentarlo devono sforzarsi di indovinare i suoi desideri non è sufficiente che gli obbediscano devono compiacerlo in tutto faticando e distruggendosi fino alla morte nel curare i suoi interessi inoltre devono godere dei suoi piaceri abbandonare i propri gusti per i suoi andare contro il proprio temperamento fino a spogliarsene del tutto sono obbligati a misurare le parole la voce i gesti lo sguardo devono avere occhi piedi mani sempre allerta spiare ogni suo desiderio e scoprire ogni suo pensiero e questo sarebbe un vivere felice si può chiamare vita codesta c'è al mondo qualcosa che risulti essere più insopportabile di una simile situazione non dico per una persona di nobili origini ma semplicemente per chiunque abbia un po' di buonsenso o quantomeno un'ombra di umanità quale condizione è più miserabile di questa in cui non si ha niente di proprio ma tutto benessere libertà perfino la vita stessa viene ricevuto da altri costoro vogliono servire per accumulare dei beni come se quello che guadagnano fosse loro mentre non possono dire di possedere neppure se stessi e come se qualcuno potesse avere qualcosa di suo sotto un tiranno vorrebbero dirsi proprietari di quanto hanno ammassato dimenticando che sono loro stessi a dargli la forza di togliere tutto a tutti e di non lasciare nulla a nessuno e si sanno che è l'avidità dei beni il motivo per cui gli uomini vengono assoggettati alla sua crudeltà che al suo cospetto non vi è delitto più grande del possedere qualcosa sanno che il tiranno ama solo la ricchezza e spoglia di preferenza i ricchi eppure si presentano davanti a lui come montoni al macellaio per mostrarsi ben pieni e pasciuti ed eccitare le sue voglie questi favoriti dovrebbero ricordarsi non solo di quei cortigiani che hanno messo da parte molti beni stando vicini al tiranno ma anche di tutti coloro che dopo aver accumulato per un certo periodo alla fine hanno perso i beni e la vita stessa dovrebbero avere ben presente non solo i tanti che hanno guadagnato ricchezze ma anche i pochi che sono riusciti a mantenersele si facciano scorrere tutte le storie antiche si ripensi al tempo passato di cui possiamo avere memoria si vedrà chiaramente quanto è grande il numero di coloro che dopo essersi conquistati con ogni mezzo indegno alla fiducia dei principi o per aver troppo favorito la loro malvagità oppure per aver abusato della loro ingenuità alla fine sono stati annientati da quegli stessi principi che tanto facilmente li avevano prima innalzati quanto poi improvvisamente decisero di abbatterli e veramente nel gran numero di persone che hanno circondato cattivi re ve ne sono state ben poche per non dire nessuna che non abbia provato su se stessa una volta o l'altra la crudeltà del tiranno che in precedenza avevano aizzato contro gli altri e spesso dopo essersi arricchiti delle spoglie altrui all'ombra del trono sono finiti ad arricchire altri delle proprie spoglie e anche le persone per bene se mai si è dato trovarne qualcuna ben voluta da un tiranno per quanto siano tra i suoi più favoriti e sappiano brillare di virtù e di integrità morale così da ispirare un certo rispetto perfino ai più malvagi quando vi si trovino vicini ebbene dico che anche queste persone non riuscirebbero a sopportarlo a lungo ed è necessario che anch'esse soffrano questo male comune e imparino a loro spese cosa vuol dire la tirannia consideriamo ad esempio un Seneca un Burro un Trasea tre persone per bene due dei quali per malasorte furono messi vicini al tiranno per curarne gli affari tutti e due stimati e ben voluti da lui per di più uno di questi gli aveva fatto da maestro e considerava appegno di amicizia il fatto di averlo educato nell'infanzia ebbene questi tre personaggi con la loro morte crudele testimoniano sufficienza quanto poco ci sia da fidarsi del benvolere dei padroni malvagi è in verità che amicizia ci si può aspettare da uno che ha il cuore così duro ad odiare il proprio regno il quale dal canto suo non fa altro che obbedirgli cosa ci si può attendere da un essere che non sapendo amare impoverisce se stesso e distrugge il proprio impero se poi qualcuno volesse dire che costoro sono caduti in disgrazia perché si sono comportati da persone oneste osservi con attenzione tutti quelli che stavano intorno a questo tiranno vedrà che quanti entrarono nei suoi favori compiendo ogni sorta di malvagità non durarono più a lungo chi ha mai sentito parlare di un amore così sfrenato di un attaccamento più ostinato e morboso da parte di un uomo verso una donna quanto quello di Nerone nei confronti di Poppea eppure in seguito fu lì stesso ad avvelenarla la madre Agrippina aveva ucciso Claudio il proprio marito per mettere il figlio sul trono dell'impero e non si era sottratta a difficoltà e disagi pur di accontentarlo e proprio questo suo figlio la sua creatura il suo imperatore costruito con le sue stesse mani dopo molti tentativi andati a vuoto riuscì a toglierle la vita e non vi fu allora nessuno che non ritenesse fin troppo giusta una simile punizione se solo fosse stato un altro a compierla e chi mai si è lasciato più manipolare chi si è comportato più da sempliciotto e da ciocco dell'imperatore Claudio chi più invecchito di una donna se non lui di Messalina e alla fine la consegnò nelle mani del boia l'ottusità è sempre stata caratteristica dei tiranni quando si tratta di non fare il bene ma non so come alla fine quel poco d'ingegno che hanno si desta in loro allorché si tratta di usare crudeltà verso quelle persone che gli sono più vicine è abbastanza nota la battuta atroce di quell'altro tiranno che osservando il collo scoperto della donna da lui amata perdutamente fino al punto da sembrare che non riuscisse a vivere senza la sua compagnia glielo accarezzava sussurrando dolcemente questo bel collo sarebbe ben presto mozzato sol che io lo volessi ecco perché gli antichi tiranni per la maggior parte venivano di solito ammazzati proprio dai loro favoriti che avendo conosciuto la natura della tirannia più che tentare di assicurarsi il benvolere del tiranno preferivano diffidare della sua potenza così Domiziano fu ucciso da Stefano commodo da una delle sue amanti Antonino Caracalla da Macrino e così quasi tutti gli altri è certamente per questo che il tiranno non è mai amato e non ama l'amicizia è un nome sacro una cosa santa essa avviene solo tra uomini per bene non si ottiene se non attraverso una stima reciproca e non si mantiene con dei favori ma con l'onestà di vita ciò per cui un amico si fida dell'altro è la conoscenza che ha della sua integrità morale gli sono di garanzia il suo buon carattere la sua fedeltà la sua costanza non ci può essere amicizia dove si trovano crudeltà slealtà ingiustizia e quando i malvagi si ritrovano tra loro non vi è compagnia ma complotto non si vogliono bene ma si sospettano reciprocamente non sono amici ma complici ma anche se non ci fossero questi ostacoli sarebbe comunque difficile ritrovare in un tiranno un amore fedele poiché stando sopra tutti e non avendo alcun compagno pari a lui è già fuori dai confini dell'amicizia che può fiorire solo su un terreno d'eguaglianza e non procede mai zoppicando ma si tiene sempre in perfetto equilibrio ecco perché si può ben dire che tra i ladri c'è una specie di fiducia reciproca nello spartirsi il bottino dato che sono tutti uguali tra loro e pur non volendosi bene si tengono d'occhio l'un con l'altro non volendo separandosi diminuire la loro forza ma quelli che sono favoriti dal tiranno non possono in alcun modo far conto su di lui poiché sono stati loro stessi ad insegnargli che tutto è in suo potere e che per lui non vi è diritto o dovere che tenga posto ormai nella condizione di far passare il proprio arbitrio come ragione di non avere alcun compagno a pari a lui ma di essere padrone di tutti davanti ad esempi tanto evidenti e ad un pericolo così incombente è dunque davvero pietoso che nessuno voglia diventare saggio a specie altrui che tanta gente si dia da fare per star vicina al tiranno e che non ce ne sia neppure uno che abbia la vedutezza e il coraggio di dir loro ciò che in un apologo famoso la volpe rinfaccia al leone che si finge ammalato vedrai volentieri a farti visita nella tua tana purtroppo vedo molte tracce di animali che vanno verso di te ma non ne scorgo neppure una nella direzione contraria questi miserabili vedendo luccicare i tesori del tiranno rimangono abbagliati dalla sua magnificenza e attratti da questo splendore si avvicinano senza accorgerci che si stanno buttando in una fiamma che non mancherà di divorarli allo stesso modo di quel satiro curioso che secondo un'antica favola vedendo brillare il fuoco trovato da prometeo ne fu talmente impressionato che si accostò per baciarlo e si bruciò o come la farfalla di cui parla il poeta toscano che credendo di trarre chissà quale piacere si avvicina troppo alla fiamma attratta dal suo chiarore e ne prova invece l'altra qualità quella del bruciore ma anche supponendo che questi adulatori riescano a sfuggire alle mani del loro padrone in ogni caso non si salvano mai dal re che viene dopo e se è un buon sovrano devono rendergli conto di tutto e comportarsi secondo ragione se invece è malvagio come il precedente avrà anche gli suoi favoriti che solitamente non si accontentano di prendere a loro volta il posto degli altri ma vogliono anche ottenerne i beni e in molti casi la vita stessa com'è dunque possibile che ci sia qualcuno che in mezzo a tanti rischi e con ben poche garanzie voglia prendere questo sciagurato posto e servire un padrone così pericoloso che tormento che martirio è mai questo buon Dio essere occupato giorno e notte a compiacere uno e tuttavia avere più timore di lui che non di qualsiasi altro uomo stare sempre allerta con l'occhio e l'orecchio tesi a spiare da dove verrà l'attacco a scoprire gli agguati leggere nel cuore dei compagni denunciare chi sta per tradire sorridere a tutti e fidarsi di nessuno non avere né nemici dichiarati né amici sinceri col sorriso sulle labbra e il gelo nel cuore non riuscire ad essere lieto e non poter mostrarsi scontento ma è ancora più interessante considerare quel che ricavano da questo grande tormento e quale bene possono aspettarsi da tutti questi loro affanni e dalla loro vita miserabile solitamente il popolo non accusa il tiranno per il male che gli tocca sopportare bensì coloro che sono messi a governare di costoro i popoli le nazioni tutti gli abitanti senza alcuna eccezione dai contadini agli artigiani sanno i nomi contano i vizi e su di loro riversano un'infinità di oltraggi villanie e maledizioni tutti i discorsi e le imprecazioni della gente sono contro di loro ritenuti colpevoli di ogni sventura della peste come della carestia e se qualche volta per salvare le apparenze questo stesso popolo li onora dentro di sé li maledisce dal profondo del cuore e li ha in orrore più che le bestie feroci ecco la gloria e l'onore che ricevono per i servizi che compiono verso la gente la quale anche se potesse ridurre il loro corpo a brandelli probabilmente sarebbe ancora insoddisfatta e ben poco alleggerita dalle proprie sofferenze e anche quando sono scomparsi dalla faccia della terra moltissimi scrittori negli anni seguenti non mancano certo di denigrare la memoria di questi mangia popoli la loro fama viene completamente distrutta in migliaia di libri e le loro stesse ossa vengono per così dire trascinate e disperse dai posteri come punizione per la loro vita malvagia anche dopo morte impariamo dunque finalmente a comportarci bene ad onore nostro o per l'amore che portiamo alla virtù o meglio ancora per l'amore e l'onore di Dio onnipotente che è testimone sicuro delle nostre azioni e giudice delle nostre mancanze teniamo lo suardo rivolto al cielo per parte mia penso e non credo di sbagliarmi che non ci sia niente di più contrario a Dio infinita bontà e libertà della tirannia e che egli riservi laggiù delle pene particolari per tutti i tiranni e i loro complici